DORICA EXPRESS Buongiorno, e cosa posso esserle utile? Nessun problema! Abbiamo a disposizione autocarri centinati, aperti, con porta container. E Maurizio, il nostro meccanico che gli fa manutenzione. Sì, certo! Con il servizio di carico completo, può gestire la spedizione a suo piacimento, decidendo volumi, tempo e destinazione della merce. Insomma, ha il pieno controllo sulla spedizione. Se invece ha pochi bancali da spedire, può contare sui nostri magazzini di smistamento, che coprono il territorio nazionale e internazionale. Tre giorni per la spedizione standard e un giorno per quella express. Ma certo! Abbiamo possibilità di trasportare i container sia da 20 che da 40 piedi. Lo ritiriamo al porto e lo spediamo. E se occorre, possiamo depositare la merce nel nostro magazzino, fino al momento della consegna. Dobbiamo consegnarlo al quinto piano? Nessun problema! Abbiamo anche un autobru! Si figuri! È stato un piacere! A presto allora!